Ciao ragazzi, io sono Falco Nero e oggi sono qui per parlarvi di un argomento che solitamente non trattiamo ma oggi facciamo un'eccezione. Perché? Perché c'è un collegamento con i videogiochi. Parliamo infatti di film e in particolare di cinema. Perché? Perché in questi giorni è uscita una notizia che mi ha fatto un po' riflettere sull'argomento. La notizia è questa. Nel 2016, a dicembre, mi pare il 21, controllo, il 21, il 21 dicembre del 2016, arriverà nelle sale cinematografiche il film di, indovinate un po' di cosa? Di Assassin's Creed. Perché adesso che ormai gli Assassin's Creed sono diventati di dominio pubblico e sono ovunque nei videogiochi, cominceranno probabilmente ad essere interminabili e tantissimi anche nelle sale cinematografiche. arriverà questo film del quale non si sa ancora una mazza perché se ne parla da 3-4 anni ma non hanno svelato un dettaglio che sia uno. Che cosa però sappiamo di questa pellicola? Sappiamo che avrà come protagonista Michael Fassbender, che è un attore che tutti conosciamo, ha fatto Prometheus, ha fatto una marea di altri film, un ottimo attore, per cui già quello dovrebbe essere una piccola grande garanzia per la pellicola. Il regista sarà Justin Kurtzel, che è noto al grande pubblico per Snowtown. Sì, so cosa stai pensando tu, vedo la tua faccia un po' perplessa e ti sono vicino, perché anche a me questo film ha detto ben poco. Il regista quindi non è che sia dei più celebri, dei più famosi, ma il fatto che uno come Fassbender abbia accettato di partecipare a un progetto del genere la dovrebbe dire lunga sulla qualità del progetto. C'è anche qualche rumor riguardo alla possibile presenza di Robert Downing Jr., cioè Iron Man, per chi non conoscesse l'attore dal suo nome vero, per cui insomma sembra che la cosa stia diventando un po' interessante. Però il motivo del video non è questo, il motivo del video è un altro, ovvero sono curioso di sapere voi che cosa ne pensate dei film dedicati ai videogiochi. Io ne ho visti, l'ho visti tutti praticamente quelli che hanno fatto, ho visto quelli di Hitman, ho visto quelli di Final Fantasy, e devo dire che obiettivamente, onestamente, mi hanno fatto un po' tutti cagare. Spero che però col tempo le cose possano andare meglio, e la cosa che mi ha sempre fatto un po' riflettere è il fatto che secondo me ci sarebbero tante ottime serie, che potrebbero diventare dei film straordinari, però continuano a fare delle serie del cazzo. Perché onestamente, al di là di Urach e Tenklank, mi piacerebbe magari vedere qualcosina di diverso e un po' più impegnativo. Qualcuno ha detto Metal Gear Solid, sì, mi piacerebbe, cazzo, Metal Gear Solid sarebbe meraviglioso, ma non è l'unico. Sarebbe bellissimo un film su Mass Effect, sarebbe bellissimo un film su Dragon Age. Però comunque sono curioso di sapere voi quali sono i film che vorreste vedere, e quali magari sono i film dedicati ai videogiochi che in passato vi sono piaciuti. Per cui i commenti sono vostri amici come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate del film di Assassin's Creed, dell'argomento in generale sui film dedicati ai videogiochi, nei commenti, e aspetto i vostri pareri per poi magari sviluppare l'argomento in maniera un po' più approfondita in altri video. Per oggi quindi vi saluto, grazie di aver visto il video come al solito, e se non l'avete ancora fatto, ovviamente, iscrivetevi al canale. Dal vostro Falconero è tutto, alla prossima, ciao ragazzi!